Siamo a Reggio Calabria, abbiamo la fortuna di poter incontrare l'ordinario militare d'Italia nell'occasione dei festeggiamenti del decennale della elevazione all'altare di San Gaetano Catanoso. Monsignor Marciano, che cosa vuole comunicare anche a questo nostro popolo calabrese, lei da questa nuova veste nella quale è stato chiamato? Intanto grazie, sono io a sentirmi fortunato per rincontrare voi e per essere figlio di questa terra di Calabria e di Reggio in particolare. Padre Catanoso resta una figura da prendere seriamente in considerazione. Una santità la sua, come la santità in genere, che ha da dire molto alla Chiesa, alla società, direi al mondo. Io la considero attualissima, la santità dei Padre Catanoso. Uso il termine santità, non messaggio, perché la santità è umanità compiuta e quindi la vocazione dell'uomo è camminare verso questo compimento. Un'umanità compiuta, una persona che vive in modo compiuto il proprio essere, la propria vita, è sempre attuale. E lo è in modo particolare Padre Catanoso per quello che ha incarnato, per quello che ha creduto, per quello in cui ha creduto, per quello che ha vissuto soprattutto in termini di relazione, e l'uomo è in relazione. Padre Catanoso, questo l'ha vissuto profondamente, la sua relazione con Dio e la sua relazione con l'uomo. È stato intercessore, intercedere, in mezzo a queste due realtà, Dio e l'uomo. Facendo sì che Dio arrivasse all'uomo attraverso il suo ministero, la sua persona, il suo donarsi. L'uomo incontrasse la verità di se stesso scoprendo Dio, vivendo Dio e vivendo in Dio. Catanoso è attuale, attuale perché ci offre, direi, la via che dovremmo percorrere come uomini, come cristiani, come cittadini. È una via che dovrebbe essere riscoperta anche dalle istituzioni, dalla politica forse, che è quella del bene comune attraverso la ricerca dell'essenziale. Padre Catanoso è stato un uomo di una grande essenzialità e ha colto nell'essenziale la verità dell'essere. Questa ricerca dell'essenziale lo ha portato a desiderare e a promuovere il bene comune, che è bene di tutti e di ciascuno. Credo che oggi, questo mondo così secolarizzato, così confuso, dove si vive un relativismo che fa perdere di vista ciò che conta, credo che questa via vada riscoperta alla luce di testimoni come il padre Catanoso. Io credo che la Calabria sia fortunata ad avere un uomo così e mi auguro che Reggio, prima di tutto, e poi la Calabria intera e poi anche la Chiesa universale, perché no? Ci sono santi che si potrebbe dire hanno fatto più fortuna, certamente santi particolari, San Francesco d'Assisi, eccetera, ma credo che ci sono santi che andrebbero, tra virgolette, fatti conoscere, promossi un po' di più, perché sono santi che possono e hanno da dire qualcosa all'uomo. Quindi credo che vada ancora di più messa al centro questa figura, è un compito, è l'impegno, è la sfida forse che padre Catanoso lascia alla Chiesa e alla città di Reggio, alla Chiesa e alla Calabria, quindi alla Chiesa calabrese. Questo è il compito che aspetta adesso, dopo dieci anni dalla canonizzazione, alla nostra società calabrese, alla nostra Chiesa calabrese. A proposito di società, politica, secolarizzazione, anche questi eventi nuovi, delle nuove legge e lazioni che vorrebbero completamente avulsa la famiglia, loro la definiscono tradizionale, noi la definiamo naturale. Cosa il messaggio, la santità di San Catanoso potrebbe dire anche oggi? Guardi, padre Catanoso, io l'ho collegato al rispetto che lui aveva per tutto e per tutti, compreso la natura, quindi la santità ha un forte legame, vive un forte legame con la natura in genere, per cui dire santità è dire splendore della natura. Padre Catanoso ci grida questo, che c'è una legge naturale che non si può nascondere, non si può strumentalizzare, non si può intaccare, manipolare. La natura è natura, quindi dire famiglia è dire natura. Non c'è da fare molti discorsi. Questo non vuol dire che non ci esime dal fatto che noi dobbiamo avere rispetto per tutti, ma credo che uno Stato civile non possa non considerare questo dato oggettivo, che è quello, diciamo tra virgolette, della natura, che è già legge in sé. E che le leggi dovrebbero tenere presente, per cui il rispetto, uno Stato deve essere laico, nella sua laicità deve, come dire, accogliere, leggiferare su tutto, però, quindi avere rispetto per tutti, senza però stravolgere ciò che poi a lungo andare potrebbe stravolgere i valori portanti, fondamentali e soprattutto l'umano e quindi la vita dell'uomo. È un rischio ed è un pericolo. Le ringrazio, Monsignor Marciano, della sua disponibilità. E quando sarà in Calabria, se verrà presso i nostri studi, saremo molto lieti. Molto contento di avervi conosciuto e auguro anche a voi buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Ciao.